Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi ci troviamo su un gioco diverso, speriamoci una piccola pausa dalle solite serie e giochiamo a Slithery, un gioco tranquillo ma che farà sclerare abbastanza. Allora signori miei, mettiamo subito il nostro bellissimo Nick Maullo941 e andiamo su play signori miei, allora io ricordo che l'ultima volta abbiamo giocato a questo bellissimo giochino tanto carino e tanto coccoloso, che carino il nostro permiciotto, allora io devo un attimino ricordarmi, ok così si accelera, perfetto, già mi sta facendo piede all'infarto, stiamo a fare la corsa, bello, voleva fottere me e l'abbiamo fottuto noi, che cosa carino, ogni tanto un po' di fortuna anche per noi, riusciamo se non vai a mangiare queste due palline, si ce l'abbiamo fatto, allora Qualcosa mi dice siamo morti male, si siamo leggermente morti male, tanto a farli gli spagasi e siamo morti male, allora 88, questa partita non è mai esistita raga, questa partita non è mai esistita, allora stavo dicendo prima che partissimo così a bomba e mi facessimo un attimo fomentare, che l'ultima volta abbiamo giocato a questo giochino abbiamo fatto il record di 599, per un pelo di non mi viene bene il termine e non siamo arrivati a 600 signori miei, quindi l'obiettivo di questa live, di questa live sì, di questo video e raggiungere quantomeno 600, o quantomeno cercare di fare il nuovo record, non riusciremo mai a entrare in classifica perché oh, Ida, ciao, non so, uuuuuh, lo ammazziamo a questo, ci riusciamo a ammazzare a questo secondo voi, ci riusciamo a ammazzare a questo, ancora lì ci riusciamo a ammazzare a voi, e così, dai, dai, bello raga, bello raga, uno l'abbiamo ucciso, dai, uno quanto meno l'abbiamo ucciso, uno l'abbiamo ucciso, vediamo se riusciamo a uccidere pure questo, dai, dai, piano, 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 non facciamoci vedere, non facciamoci vedere, non facciamoci vedere, non facciamoci vedere, mannaggia lui, Lui ci ha visto, ci ha visto, ha cambiato strada, ci ha visto e ha cambiato strada. Nel nostro record qua, c'erano 137 punti, signori miei, 137 punti. Stiamo vicino a questo rosso, questo è che magari decide di morire da solo, questo rosso. Questo è che magari decide di morire da solo, vuoi morire da solo zio? Bello raga, ne abbiamo fatto fuori un altro, ne abbiamo fatto fuori un altro oggi raga, e siamo partiti via, mamma mia quanto è grosso questo. Non mi chiudere zio, se mi chiudi mi incacchio parecchio, dammi così. Riesce a morire, bello bello l'arcobaleno, bel serpentone l'arcobaleno, vuoi morire? No, non vuole morire, siamo a 260 raga, ci avviciniamo verso il record, non ce la chiamiamo ma ci avviciniamo verso il record raga. Zitti, 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 facciamoci la nostra bellissima strada, eccolo con lì, nannaggia. Voglio fregare l'arcobaleno ma mi stava per fregare lui. Allora, no è morto, qualcuno qui è morto, qualcuno qui è morto, riusciamo a fregare sta pallina, quello si è fregato. Nannaggia, no no no, uuuuuh, mamma mia, Mamma mia, che cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo signori qua, è successo un casicchio terribile. No, 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 perché mi sento chiuso, perché penso, penso che mi hanno chiuso male, mannaggia di una miseria, mi hanno chiuso male. Quando abbiamo fatto 318, vabbè questo è ancora il riscaldamento raga, questo è ancora il riscaldamento. Colore rosso, colore rosso questa volta raga, il rosso porta bene, il rosso porta bene. Noi dobbiamo farci semplicemente i fatti nostri, e secondo me se evito anche di prenderli accelerati, quelle potenti, possiamo fare più punti, secondo me. Dobbiamo semplicemente stare così belli, tranquilli, tranquilli, dai, 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 dai. Raga, ma stiamo a giocare da soli, non ce ne sta nessuno, non ce ne sta nessuno? Qualcuno, seguiamo questo, seguiamo questo, seguiamo questo, dai, 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 seguiamo quello, seguiamo quello, siamo la ombra delle 3 stelline, siamo la ombra delle stelle, siamo la ombra delle stelle, prima o poi muore questo, signorini, questo prima o poi schiatta. Uh, occhio, 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 raga, occhio, 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 no, 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 madonna, mi sono andato a sfrontare sulle 3 stellette, lo volevo fregare invece mi ha fregato lui, e va bene, e va bene, e va bene, e va bene. Nuova partita, nuova corsa signori miei Questa volta colore verde Verde e speranza Verde porta bene signori Verde porta bene Forse Ragazzi siamo a 135 punti Siamo a 135 punti Finalmente compare qualcuno Perché abbiamo fatto mezz'ora a camminare da soli praticamente Finalmente sta iniziando a comparire qualche mostro Che però Qualche altro se prenderlo Che però si sono fatti gli affari loro E per noi va bene così Continuiamo a mangiare A mangiare le nostre bellissime palline colorate Le nostre Le nostre Qual'erano le palline con le smarties Le smarties Continuiamo a mangiare le smarties signori miei Belli tranquilli Siamo a 208 punti Dai 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 Dobbiamo arrivare a 600 Dobbiamo arrivare a 600 Non chiudo questo video se non tocchiamo il record praticamente Oh ci sono le tre stellette qua a fianco a noi Che sicuramente Sinceramente l'ultima volta non ci hanno portato bene queste stellette Quindi stiamoci lontano dalle stellette Che è la miglior cosa signori miei La cosa migliore La cosa migliore Star lontano dalle stelle Dai così dai così 300 in questo momento signori miei 304 304 Ci siamo Ci siamo Ancora non ho ucciso nessuno raga Non ho ucciso nessuno Madonna Ma ci ho provato Ci ho provato ma mi sono cagato in mano Ci ho provato ma mi sono cagato in mano Quindi meglio lasciar perdere queste accelerate così brutte Se noi riuscissimo a fare un buon punteggio signori miei Potremmo anche cercare di chiudere qualcuno Ma non è per nulla facile Questo secondo me James non è più confuso che altro Riusciamo a fregarla a James Secondo voi riusciamo a fregarla a James? No Al momento ci fregava lui a noi Allora Lasciamo perdere James Continuiamo la nostra ricerca delle palline Delle smarties colorate 400 signori miei 400 Il nostro serpentello cresce Il nostro serpentello cresce signori miei 400 400 di lunghezza Dai è buono È buono È buono 400 Dai 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 Puntiamo i 500 Puntiamo i 500 Raga 500 515 520 Siamo a 80 dal nostro record Siamo a 80 dal nostro record signori miei Dai che ci arriviamo Dai che ci arriviamo Dai che ci arriviamo Calma 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 Mamma che brutta cosa che ho fatto 549 550 Qua è morto qualcuno Ce ne vediamo qualcuna Bella così Dai è così Ce ne siamo fregata qualcuno Che però è stato ottimo 600 raga Record Riusciamo a chiuderlo questo Secondo voi? Riusciamo a chiuderlo L'arcobaleno Ci riusciamo a chiuderlo Secondo voi? No 616 Siamo morti Ma perché non ho continuato a farmi L'affare miei Ma perché dico io Perché non ho continuato a farmi L'affare miei 616 signori miei Nuovo record Nuovo record Verde Speranza ha portato bene Verde Speranza ha portato bene 616 Nuovo record Vediamo di battere Il nostro record Vediamo di riuscire a fare due record Contemporaneamente nello stesso video Vediamo Vediamo se riusciamo a mangiarci questo Ci riusciamo Secondo voi a mangiarci questo Ci riusciamo Secondo voi a mangiarci questo No Porca miseria Madonna mia Madonna mia Che me la sono vista brutta Riesco a fregarlo Dai 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 No 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 Guarda guarda Ho perso il mio mouse Ho perso il mio mouse Ok ok Fermi tutti Avevo perso un attimo il controllo Del mio serpentello Non è bellissimo da dire Però va bene Questo è schizzato Meglio starci lontano Da questo schizzato Siamo a 436 Raga Raga siamo a 500 Siamo a 500 Ma non ci sta più nessuno Madonna Ci stiamo per dare un bacio In Francia In bocca Con quell'altro serpentello Qualcosa bruttissima Io me li chiamo comunque Dico che non c'è più nessuno E mi sbucano così Di improvviso Che mi fanno saltare in aria Dai 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 Siamo a 546 550 E volevo prendere queste qua Che sono più grosse Dai 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 Anche questa che è più grossa 570 Raga Il nostro record è 616 L'abbiamo fatto l'altra volta L'abbiamo fatto poco fa L'altra volta L'abbiamo fatto poco fa Dai 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 Uuu Lì ne è morto uno Lì ne è morto uno Lo so che ora mi pilona Non infrantata Terribile No Ne è morto uno enorme Raga Mi si è buggato completamente il gioco Non ci posso creare Mi si è buggato tutto raga Mi si è buggato il gioco Nel momento in cui stavo andando Record 645 Raga In basso Si è buggato così raga Non c'è che farci Uuu Ok è ripartito Uuu È morto pure quello da Dobbiamo andare a prendere tutto Tutto Prendi 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 Tutto Prendi Tutto No 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 Questo è morto pure Mamma mia Sono morti tutti Non ci sto capendo nulla raga Non ci sto capendo nulla Houston Houston Non ci sto capendo niente Raga 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 Mega 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 Raga 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 1008 1008 Stiamo prendendo un sacco di cibo Stiamo prendendo un sacco di cibo Bella così Dai 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 Pia 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 zio Pia zio Non ce l'hai troppo 2003 E siamo morti Lag del Lag del Lag di marmellota Signori miei Siamo morti Siamo morti Stavo mangiando l'impossibile Signori miei Stavo mangiando l'impossibile Abbiamo fatto il record Praticamente Ecco Stavo Stavo Sc senior Stavo Stavo Sanno Stavo Destavo Stavo Stavo Niente ragazzi Si è bloccato completamente tutto Che cosa terribile Comunque 2346 Stiamo a fare un record pauroso 2346 stiamo a mangiare l'impossibile Detto questo ragazzi Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per condividerlo Ci vediamo prossimamente Sempre qui sul canale con un altro contenuto Ciao